Bella a tutti ragazzi! Bentornati su Mega Wow! Sapete, sono molto felice che vi siano piaciute le rubriche che abbiamo fatto settimana scorsa. Anche i miei amici stanno accettando queste strane sfide. Oggi ci aspetta un altro momento action! Momento action! Mi raccomando, lasciate un like per farci sentire il supporto! Dunque, se dico dieci vi viene in mente qualcosa? Magari delle cose che abbiamo visto nei video precedenti? Stiamo parlando di dieci! Quindi la sfida di oggi è a tema calcio e il nostro sfidante è Cri Cri! Vai Cri Cri! Dimostraci quanto sei bravo! Ciao Happy! Come hai già salutato i miei chi? Oggi siamo qui con 10! Il nuovo gioco in scatole per i veri bomber! Top Player Edition! Ci sono nuove carte! Vinci la lotteria dei calci di rigore! E salire la scala in classifica del campionato! Adesso andiamo a vedere cosa contiene dieci! Allora, abbiamo un tabellone! Se apriamo qui ci sarà il mazzo, quello grande grande! Vabbè, poi spiego dopo! Poi abbiamo questo, dove dobbiamo togliere questo per fare il portiere! Poi abbiamo la lovanetta che sente i punti, le carte e un'altra carta, la gira-gira, io la chiamo così, la gira-gira, le istruzioni, altre cose da montare, il tabellone e basta! Questo è il tabellino di gioco, se giriamo abbiamo sei tabellone in totale per giocare, ok? Poi abbiamo i due mazzi, il portiere che se abbiamo il portiere lo mettiamo tipo, mettiamo al centro e lo va al centro! Iniziamo dal gira-gira! Togliamo, apriamo qui in mezzo, prendiamo questo, qui abbiamo il giro-giro che è la lotteria, qui abbiamo il portiere, qui abbiamo il bonus oppure il malus e qui abbiamo i segnapunti che ci sono solo i gol e qui abbiamo il mazzo! di pesca, praticamente noi facciamo il torneo, io sarò P1 e lì che sarò P2 con papà, quindi andiamo a scrivere, ok ho appena sbagliato a scrivere il mio nome, come lo scrivo con l'H? 3 Ora che i giocatori sono pronti nel tabellone si può iniziare a giocare, pesco 5 carte io, 1, 2, 3, 4 e 5 Ora pesca tu, Nicky pesca, pesca! 1, 2, 3, 4 e 5 Ora, no no basta, basta! Ciao Eppi, ti faccio vedere le mie carte, questa, 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 questa e infine questa Adesso potete vedere le carte di Nicolas Adesso Nicky va da papà perché così loro giocano insieme Kree tocca a te ad attaccare, devi pescare una carta dal mazzo Ah, anche voi! Un attaccante, un attaccante è normalissimo Ora noi ci dobbiamo difendere, noi giochiamo questa carta, difensore Nicolas e papà mi hanno fermato Quindi mettiamo le carte in scarti, nelle scarti Tocca a voi, Nicolas pesca una carta Nicolas ha pescato una carta speciale Cosa? Il mister Ora giochiamo una carta attaccante Accidenti! Ho fatto un gol! Ma meno male che ho questo far Che è la nonna! Siiii! Gli ho annullato il gol, gli ho annullato il gol Tocca a me! Allora, vediamo cosa ha con cosa attacco Facciamo... Una punizione al limite Azione d'attacco Che può essere fermata solo dalla barriera O dal palo Ora c'è ancora una carta a bar! Oh oh! Ma qui non si fanno gol! Vabbè! Due carte per voi Una E due Gettiamo il cartellino rosso Che dice Fai perdere una carta ad un proversario a scelta Queste sono le mie carte Scegli una Sicuro mi sceglie Quale hai scelto? Che bello! Non mi ha rubato il numero 10 Che dice Ruba un gol a un tuo versario Quindi se non c'è un gol Non posso prendere io! Che bello! Ho preso un'attraversa Però spera L'attraversa serviva Oh oh! Per il rigore Ho paura Perché non so neanche se hanno il rigore Quindi nel primo tempo Abbiamo fatto 0 gol Quindi nel cabellone non c'è niente Sperando Che in questo secondo tempo ci saranno dei gol Tocca a me Attaccante Ma nulla il gol Linky Quindi niente Niente Linky le carte E io Cambio campo Quindi Dice Inverti il turno di gioco Quindi Dovrebbe toccare a me adesso Ma ritocca di nuovo a lui Non il rigore Decide di dire la voce Oppure di girare l'aurora Vai! Destra! Quindi dobbiamo avere un portiere che va a destra E ce l'ho Io non ce l'ho Quindi Mi faccio il gol Oh Quindi Prendo Il penarello Mi sono uniti Uno Un punto Un punto Un punto Tocca A me Spera 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 Questo Rubo il gol Rubo il gol Rubo il gol Rubato il gol Quindi mi prendo due carte Prendo il gol Cancello il suo gol E il gol va a me Vai tocca a te Vai Niki tocca a te Attenzione Attenzione Niki scegli un gol Attenzione Un gol Ma io non ho niente Quindi Goal a Niki Siamo uno a uno Un gol segnato Va all'uno Siamo uno a uno Niki Carta rossa Lo devo subito mettere Allora Moviola Ah Dice Vuoi guardare le carte Di una versoria A tua scelta? Ok Sto guardando le mie carte Ma non puoi prendere Ok Basta Ora Tocca a me No e no no più Non ho visto Però ad effetto tiro d'effetto si si metti pure il tiro d'effetto e io ti voglio fare palo infortunio passi con questo turno e non giochi alcuna carta guarda che deve rubire devo fare questa però rubo il gol e vabbè il mio punto si trasforma in due cosa e quindi devo mettere ah no nulla un gol quindi una a una poi rubo un gol con quella carta 10 e io vado a 2 e lui a 0 poi io adesso sono a 1 e lui a 1 tocca a mickey gioco un gol quindi gol un altro gol è un altro di mezz'ora la partita della leperina tocca ancora lui è un altro gol voglio il portiere aiuto allora amicamente io ogni volta lui mette ogni volta gol 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 e io metto difensore 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 è una partita per non finirà mai quindi partita estusiasmante quindi io mickey ha 1 più 0 1 più 1 2 più 1 2 4 punti in totale in totale il vincitore mickey il campione di tutti ciao ecchi ciao ecchi strabiliante non pensavo ce l'avrebbe fatta comunque noi ci vediamo domani con un nuovo video mi raccomando seguite ciao 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 ciao